Perché si chiama catalana se non ha nessun elemento della catalana classica? So che ci va anche la cipolla, se ci mettevo la cipolla copriva molto il sapore della tagliatella. Il nome di un piatto significa evocare dei sapori, dei colori, dei profumi. Se invece queste cose non si trovano, allora non è il nome di un piatto, ma è più uno specchietto per le allodole. Bene, Mimmo, grazie!